caro giulio ti sei ripreso da queste feste mi sono ripreso vedo online sì sì ma sono state delle feste diciamo celebrate in maniera molto morigerata bravo allora cosa hai fatto nella solitudine della tua stanza durante queste feste mi sono lungamente dilettato nell'ascolto di queste davis acoustics olimpia master 35 edizione celebrativa dei 35 anni di attività del costruttore francese costruttore che utilizza questo modello per celebrarsi perché c'era già stato un 25 un 25 come potete vedere è un diffusore da stand assolutamente il classico bookshelf di forma parallelepipeda come se ne sono visti infiniti anche di molto blasonati pensiamo alle qualsiasi alla qualsiasi però nella diciamo interpretazione o reinterpretazione che ha fatto la vista acoustics devo dire ci sono delle cose piuttosto interessanti ma prima di tutto dovete sottoscrivere al capoccione di giugno esattamente parecchio sopra al capoccione mio e seguiteci classico bookshelf con twitter a cupola in seta ma da 28 ma da 28 quindi un pochino più grande del solito componenti fatti da loro poi lo vedremo meglio in sala smontaggio bass reflex bass reflex posteriore e quindi come tale diciamo non possono essere messe a libreria a meno che non siete proprio diciamo così affetti da una forma di auto lesionismo e di come posso dire odio nei confronti del diffusore che vi capita sotto mano è necessario che ci sia un po di un po d'aria sono diffusori che debbono e devono respirare assolutamente e io quello che ho apprezzato poi insomma dopo lo diciamo in maniera un po più articolata è proprio la chiarezza di intenti di questo diffusore se abbiamo visto fino alla nausea diffusori ellittici diffusori stondeggianti con gli angoli smussati dovuto anche alla maggiore semplicità di adesso con le macchine cnc di fare forme un po diverse diciamo sì però ecco invece questo qui è proprio il lui lui classico diffusore a scatola da scarpe e due vie diciamo un 44 almeno sì a occhio e croce sì e semplice semplice però accidenti accidenti come suona nel senso poi io sono sempre convinto di questa cosa che se l'ambiente che avete a disposizione non è tanto grande è inutile metterci i diffusori da pavimento che tirano fuori una quantità di energia che vi crea solo problemi un diffusore compatto bookshelf magari si installato come si deve è in grado di darvi delle prestazioni fantastiche e specialmente questo qui sparisce sì anche perché le dimensioni strette del baffle limitano moltissimo le riflessioni vicine che può fare la cupola perché una riflessione vicina significa poi un emissione in controfase quindi una cancellazione nel caso in cui il baffle è molto stretto e come in questo caso la cupola è un po grande questa diciamo controindicazione è estremamente limitata quindi non è neanche così giustificato fare un contenitore particolarmente di forma ecco certo 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 ci stiamo già perdendo nei tecnicismi che invece andiamo ad affrontare adesso è vero scusa con con lo smontaggio dopodiché seguendo il nostro consueto schema dopo lo smontaggio e il riassemblaggio sperando che tutto funzioni e passeremo alle impressioni di ascolto ok a dopo l'hai già smontata anche il tempo di andare di là io l'avevo già smontato il raptus il raptus lo smontato va bene però tu la smonti ma io racconto qualcosa in più di davis acustic grazie dunque davis acustic è un'azienda francese evidentemente anche il vessillo francese sulla piastrina dietro non so se si riesce a far vedere lo chiarisce giusto perché i francesi ci tengono queste cose e azienda che festeggia guarda un po i 30 dunque 35 anni 86 dall 86 che che produce il titolare e peraltro ha avuto una precedente esperienza con marchi importanti audax e siare quindi insomma due due marchietti due marchietti da niente e dopodiché ha deciso di mettersi in proprio e si è messo in proprio con questa diciamo sua creazione questa azienda che è un'azienda che tra le poche realizza tutto completamente in casa quindi i driver cioè gli altoparlanti sono come dire farina del loro sacco il che non è del tutto banale perché non sono piuttosto pochi i produttori che si cimentano nel realizzare il driver poi soprattutto un'azienda diciamo che fa numeri piccoli come questa e diciamo a un prezzo non stratosferico è una cosa difficile da trovare in commercio però è pur vero come dice il nostro buon amico lorenz dichi di vivid audio che se vuoi raggiungere le specifiche che ti servono avendole definite in fase di progetto il driver te lo devi fare da solo esattamente quindi effettivamente è una marcia in più la cosa interessante di davis acoustics che ha sperimentato da sempre con i materiali innovativi con i compositi e tra l'altro di questo diffusore qui c'è una precedente versione che magari vi sarà capitato di vedere pubblicata o in giro del 25 annale che aveva il woofer stessa configurazione sostanzialmente ma il kevlar utilizzato era quello giallo mentre invece qui è un differente tipo di kevlar più scuro e comunque il tutto il progetto ha subito una pesante reingegnerizzazione poi giulio mi viene in mente sarà venuto in mente anche i nostri follower chissà se sono stati prima loro o prima la grande bowers wilkins a usare il cario io non lo so sinceramente andrebbe andrebbe visto chi prima chi si è cimentato prima e dal punto di vista tecnico questo è un diffusore proprio il classico due vie diffusore estremamente diciamo se vogliamo tradizionale nelle sue anche nelle sue forme si 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 proprio il classico il classico parallelepipedo effettivamente è realizzato però devo dire in maniera incomiabile anche rifinito molto molto bene in legno naturale si nel sito di davis acoustics è definito un capolavoro di ebanisteria e devo dire assolutamente molto ben fatta non so se le immagini che stiamo realizzando renderanno giustizia come si dice al prodotto effettivamente molto ben fatto questa è se vogliamo la versione più convenzionale ce n'è una versione con una finitura più scura e io l'ho vista soltanto in fotografia fa un effetto un po curioso molto molto cuba molto cuba e però con delle diciamo nuance delle una texture particolare che effettivamente è piuttosto è piuttosto questa è molto bella questa è molto bella si si è diciamo assolutamente ben rifinita e passo diciamo allora è un diffusore realizzato molto bene soprattutto perché ha dei condensatori la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto nel nel crossover che loro diciamo puntano a dire che è cablato in aria e quindi c'è una certa differenza tra quello fatto su pcb stampato e quello in aria questo è cablato tutto in aria ma c'ha due condensatori su twitter che sono gli m cap supreme della mundorf che sono dei condensatori che vi esorto ad andare a vedere online hanno un costo enorme quindi trovarli su un diffusore che costa poco più di 2500 euro sinceramente non me lo aspettavo e so per certo che questi condensatori in particolare fanno una grandissima differenza sul suono quindi poi vedremo in sala d'ascolto che cosa succederà dunque mi metto gli occhiali perché se no non vedo il woofer è un bellissimo woofer con membrana in kevlar anche se in questo caso è verniciata di nero e va detto che ha delle trame piuttosto più diciamo grandi rispetto alle trame che avevo visto fino ad ora è trattato posteriormente è trattato posteriormente come si può vedere con una particolare vernice antirimbombo e curiosamente si vede attraverso la trama vedi giulio è molto molto curiosa la cosa questa è un'ogiva rifasatrice bellissima che ha la doppia funzione sia di rifasare l'emissione che sta diciamo vicino a questo che si chiama parapolvere sia a funzione dissipante perché in metallo questo è in alluminio in particolare con una fresatura particolarmente bella e devo dire dal punto di vista estetico questo colore che è una specie di bronzo di bronzo si esatto perché non è non è nero diciamo a questo stanno dunque poi queste sono questa è il complesso magnetico in ferrite queste sono le due placche che sono leggermente più grandi per evitare che il campo magnetico esca fuori e quindi imbrigliarlo e farlo rendere di più il cestello è un cestello in pressofusione d'alluminio fatto apposta in questo modo con queste campate disegnate in modo che ci sia la minore riflessione vicina possibile perché uno dei problemi degli altoparlanti soprattutto dei woofer che hanno una pressione molto alta posteriore e che le campate molto larghe creino delle riflessioni vicine che poi servono a diciamo come dire a stoppare la l'escursione del cono e quindi a creare distorsioni un'altra cosa molto interessante è l'escursione che è estremamente ampia e la grandezza della della bobina mobile molto 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 lunga il woofer lo possiamo licenziare serenamente il twitter è un twitter che sinceramente come come aspetto estetico mi sembra di aver già già visto almeno come come forma della cupola ma è una dimensione un po fuori standard perché questo è un 28 non è un 25 e quindi lo standard e 25 per quello no no ma è prodotto da loro è prodotto da loro possiamo notare qui la la camera di decompressione è fatta davvero molto molto bene e qui si possono vedere dei rinforzi che corrispondono dietro con delle vere e proprie camere lo fa anche la keff delle vere e proprie camere che servono per assorbire attutire completamente l'emissione posteriore della cupola del twitter o interessante secondo me è il cablaggio perché io vedo che è a livello dei diciamo delle tre tratte di cablaggio sostanzialmente cioè dalla vaschetta dei potenze diverse diciamo potenza di ingresso di ingresso poi il cablaggio che collega il twitter e cablaggio che collega il woofer sono tutti differenti quindi sezione differente che qui entra tutta la potenza e quindi c'è una sezione questo forse è un 4 mm e questo potrebbe essere un 2 ed è quello che va al woofer e questo sarà 0 0 25 probabilmente che va al twitter molto bello perché questo è isolante in teflon quindi anche dal punto di vista della della cura dei dei cavi di cablaggio gli diamo un 10 ma anche la cura del connettore che è il classico a questo punto classico vbt next gen comunque impiegato che costa un occhio della testa dunque io ho apprezzato molto l'attenzione che davis acoustics riserva ai recensori distratti come posso essere io perché qua dietro c'è la scheda tecnica cioè serigrafato qua dietro a uso e consumo del tratto recensore mi collego con l'aldilà secondo me quant'è l'impedenza non l'ho letto giuro e la banda passante da 47 a 21 KHz esatto e infatti potenza massima diciamo intorno ai 100 watt 120 120 no quello che invece è realmente interessante è il parametro della sensibilità che è 90 db quindi molto interessante anche per amplificatori con pochi watt ma tanta qualità insomma diciamo per essere un mini e con diciamo la pretesa di essere un mini importante la sensibilità di 90 db è qualche cosa che mi ha abbastanza certo certo vogliamo dare un'occhiata dentro che dici assolutamente diamo diamo anche un'occhiata dentro ok e dopo di che riassembliamo il tutto e passiamo chissà no in questo caso funzionerà perché non ho non ho dissaldato allora diciamocelo tutta ecco il diffusore funzionava perfettamente prima di questo smontaggio e perché io senza dire niente a nessuno l'ho abbondantemente rodato anzi mi è arrivato rodato e io me lo sono già ascoltato quindi vuoi dire che se c'è qualche differenza sonica sul solo canale colpa mia potrebbe essere potrebbe bene a dopo una cosa estremamente interessante che molto raramente mi è capito di vedere l mdf a densità variabile possiamo vedere infatti una prima parte di un certo colore la seconda parte di un colore più scuro quindi vuol dire a maggiore densità questo diminuisce ancora la frequenza di risonanza delle mdf mdf tra l'altro lavorato molto bene setto di rinforzo interno ma la cosa che mi piace di più sono i condensatori mundorf eccoli qua m cap supreme uno da 4,7 questo qui in fondo è da 10 e potete vedere poi il cablaggio completamente in aria quindi è fatto come se fosse un amplificatore a valvole di quelli vintage realizzato molto molto bene ma soprattutto con componenti non solo condensatori ma anche le bobine di altissima qualità per cui gli diamo più di 10 e lode perché questa è una costruzione tra componenti e mdf che si vede in diffusori di ben alta caratura un'ultima cosa il tubo di accordo che è fatto col cartone ok questo è cartone potrebbe sembrare si è cartone e finisce poi con un tubo di accordo con uno svaso una cosa notavo che il midwoofer è fissato al mobile mediante interposizione di madre viti metalliche affogate mentre invece il twitterino è privo di questo accorgimento le viti sono direttamente diciamo fissate sul perfetto che diciamo che va bene questo che lo rimontiamo che lo rimontiamo se buon rimontaggio grazie che bell'ascolto e giulio era tanto che non sentivo un diffusore standard classico come come lodi ma anche di impostazione forse ci ricorda un po i primi amori degli anni 80 no beh insomma forma come forme di prodotto le spender le tablet le rogers l'in come si chiamava l'in can l'in can esatto e si diciamo che ne abbiamo ne abbiamo ascoltati tanti di questi diffusorini bookshelf da stand e però devo dire queste qui queste da vis effettivamente suonano in una maniera un po differente si è moderne senza dubbio sicuramente mi sembrano dei diffusori estremamente dinamici estremamente dettagliati non che quelli che abbiamo citato non lo fossero però e qui ci sento come posso dire non quel l'approccio è un po' nostalgico retro ma un approccio di assoluta modernità e volevo fare una piccola precisazione no perché sto notando nelle views del nostro canale che le elettroniche DAC amplificatori lettori sono mediamente più visualizzate di quanto non siano le casse forse perché le casse nell'immaginario collettivo vanno ascoltate ma va ascoltato anche un amplificatore o un lettore quindi non riesco anche con casse economico relativamente economiche che abbiamo provato mediamente c'è meno interesse sì allora io la spiegazione che mi sono dato magari è una spiegazione errata è che l'acquisto del diffusore è un acquisto sempre diciamo piuttosto impegnativo cioè laddove abbiamo proposto qualche DAC da nell'ordine delle centinaia di euro il diffusore è un oggetto un po più costoso e quindi magari non ti viene neanche come dire il desiderio la fantasia di ipotizzare di ipotizzare l'acquisto ci ho detto poi il diffusore va ascoltato secondo me prima di o dell'acquisto ma come tutti i componenti audio cioè non che uno streamer un DAC un amplificatore ci si fida di quello che uno ha letto o quello che uno ha ascoltato forse anche le nostre poche parole insomma sempre è giusto come dire giudicare con le proprie orecchie toccare toccare con mano comunque a parte queste considerazioni le torniamo al prodotto in prova a queste a queste da vis e allora è stato interessante questo ascolto perché come dicevo il background che uno ha venendo da tanti anni di audio e avendo ascoltato tanti diffusori di questa categoria e come dire io mi sono seduto immaginando che suonassero in una certa maniera come ho detto inizialmente e sì ma con dei distinguo esatto sì ma con dei distinguo e tendenzialmente per cercare di rimanere in tempi brevi questi ma sono tutti migliorativi tutti migliorativi sembra una fotografia di diciamo di questo tipo di diffusori degli anni 80 ma con parecchi fogli di opacità in meno ecco come se avessimo tolto parecchi strati di distorsione di tu che ne pensi ad esempio ecco il parametro della eccellente ricostruzione spaziale che è propria di questi questa tipologia di diffusori ecco qui obiettivamente fa un ulteriore forte balzo in avanti passo in avanti ora io ho in testa il mio riferimento che è stato in questa sala per qualche giorno per qualche mese e magari in qualche video lo avete anche visto le vivid le caia S12 tra l'altro sono di un altro livello perché qui parliamo di 2,650 2,750 parliamo di 10.000 euro 9.000 euro una cosa di questo genere ecco quelle secondo me dal punto di vista della ricostruzione spaziale sono su un livello quasi allucinatorio queste però ci si avvicinano eh sì anche anche parecchio ci si avvicinano parecchio e scusami giulio se ti interrompo ci tengo a precisare che le stiamo ascoltando con un impianto assolutamente terrestre perché siamo ritornati copland è un amplificatore che non arriva a 4.000 euro assolutamente assolutamente dotato di un DAC a bordo e noi stiamo ascoltando con il DAC a bordo quindi obiettivamente diciamo e siamo riusciti a avere una buona correlazione di prezzo fra l'amplificatore la sorgente e i diffusori e non dimentichiamoci la sorgente analogica cioè il giradischi new horizon però scusami sorgente digitale è il è un computer con in questo caso stiamo utilizzando un music server della della jcut quindi sì effettivamente non siamo andati a scomodare pesi massimi o oggetti particolarmente sofisticati è un un setup tutto sommato dal costo terrestre e dalla complessità relativamente limitata e l'unica cosa ecco l'unica accortezza che abbiamo messo in campo è stata quella di del posizionamento posizionamento che lo dicevo all'inizio come sempre accade con questi mini diffusori e si chiamano paradossalmente bookshelf e dove la mensola bookshelf è esattamente il posto dove non bisogna metterli e questi diffusori dicevo hanno bisogno di aria hanno bisogno di aria parecchia e insomma il minimo sindacale parliamo dei 80 centimetri anzi direi che paradossalmente un diffusore così ha bisogno di più spazio di un diffusore a torre forse perché ha bisogno di più si spazio intorno perché ha una minore emissione in gamma bassa va sistemato meglio per una tridimensionalità coerente quindi diciamo teoricamente allora qualcuno mi ha chiesto sì ma se io devo avere il diffusore bookshelf posizionato su uno stand che mi occupa lo stesso spazio di un diffusore a torre ma non posso comprarmi il diffusore a torre sì certo però interviene l'alto parametro questi di questo tipo di diffusori immettono meno energia in ambiente e quindi sono più semplici da gestire non avete una gamma bassa così profonda come con il diffusore a torre ma dal punto di vista della gestione quello che avete è molto più semplice da ottenere e poi è un eventuale upgrade è un paio di subwoofer anche non particolarmente grandi dal punto di vista delle dimensioni e quindi e quindi del woofer che poi possono essere sistemati posteriormente rispetto al diffusore e anche per quello ci vuole tanta pazienza e tanto tempo però si ottiene poi una gamma bassa assolutamente assolutamente impeccabile e quindi devo dire parlare di questi di queste davis e non è semplicissimo voglio dire non c'è un aspetto su cui io posso dire ho qualche perplessità non c'è nella maniera più assoluta e è un diffusore che come dire sparisce una volta messo a punto come deve essere messo a punto sparisce lascia soltanto spazio all'emozione dell'ascolto e non ti viene da focalizzarti sulla gamma media la gamma alta suona 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 in una maniera coinvolgente in una maniera estremamente raffinata e c'è dettaglio c'è focalizzazione c'è un registro grave diciamo decisamente e nettamente superiore rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare da un woofer da 13 esattamente e io in questo direi che probabilmente c'è anche un po la complicità di un mobile che non è piccolo piccolo è forse leggermente più grande rispetto al solito e al solito riferito al bookshelf e quindi si scende qualche else in più probabilmente sì ma ci scende con autorevolezza ci scende con eleganza e e con una raffinatezza armonica che secondo me è tutta da ascoltare e poi permettimi senza quell'effetto loudness che adesso si sente in tante casse sì tante casse che hanno questo basso che si che non che non gli è proprio ecco diciamo di poca di poca naturalezza e in termini di pilotaggio noi lo stiamo pilotando con un amplificatore da 100 watt e che francamente mi sembra un'abbinata con l'efficienza 90 db 90 db sì però ecco come dire gli abbiamo tra virgolette dato di volume anche salendo a livelli importanti limitatamente a questa stanza che non è grandissima senza nessun problema senza nessun problema tutto non ha fatto una piega non c'è stata mai il desiderio di abbassare perché c'era qualcosa che non andava anche un amplificatore da una sessantina di watt dovrebbe bastare secondo me secondo me sì in un ambiente piccolino non ci dovrebbero essere problemi e quindi che dire io mi continuerò a dilettare nell'ascolto di questi diffusori in questi giorni di relativa tranquillità e io e io direi anche se è meglio che le andate ad ascoltare vi potete fidare del fatto che suonano indubbiamente molto bene e noi e noi ne saremo lusingati se vi fidate sono tra l'altro un eccellente acquisto perché come rapporto qualità prezzo è un rapporto qualità prezzo assolutamente eccellente difficilmente anche dal punto di vista della costruzione e l'abbiamo detto mi è capitato di vedere delle raffinatezze tecniche e della componentistica utilizzata di questo livello sì sì dal punto di vista costruttivo ovviamente non l'avete tanto di cappello assolutamente va bene allora subscribe se ve lo siete dimenticato all'inizio assolutamente seguiteci e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao